Finalmente si sta procedendo alla sistemazione della SP36 dopo tanti anni di attesa. C'è un problema, il problema è che negli incontri nei tavoli tecnici con la prima municipalità si era stabilito di procedere diversamente da come si sta facendo ora. In sintesi ci auguriamo che comunque tutto quello che è stato detto venga fatto. Abbiamo richiesto la sistemazione delle griglie e dei tombini sulla SP prima della posa del nuovo manto stradale. Abbiamo anche richiesto una scarifica decorosa cosa che la ditta secondo me è impossibilitata visto il numeroso transito veicolare quindi anche loro lavorano male. Perché? Perché abbiamo chiesto la sistemazione quantomeno della pista di emergenza nel torrente in questo momento veramente impraticabile. La scarifica di fatto ancora è molto superficiale quindi ci aspettiamo che dato che i lavori sono in corso d'opera che vengano eseguiti veramente nel miglior modo possibile e venga regato meno disagio alla popolazione deviando e presidiando l'accesso nella strada lungo il torrente in questa pista di emergenza dalle forze dell'ordine. Grazie. Grazie.